Ciao a tutti che sono tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Paradise of Monster Siamo qui nella stanza dello storage, del magazzino per così dire Anzi no, è proprio un magazzino E ci sono tantissime ceste con degli time frame, tutte vuote Perché dobbiamo organizzarle noi Ho letto un paio di commenti, grazie mille per il supporto a questa nuova serie come al solito Davvero fantastici, siete fantastici ragazzi E mi avete detto, guarda, metti il letto vicino al teletrasporto Perché tanto, anche se muori in un dungeon, nella stanza del teletrasporto Hai sempre il teletrasporto per tornare in quella stanza E quindi ti conviene fare in questo modo E quindi, facciamo così Allora, io ho anche qui il, dov'è? Ah, il bottone per l'intersezione, eccolo qui E direi che possiamo partire Il primo, se non sbaglio, è il, l'arancione Andiamo all'arancione, cazzo mene, boom Ok, prima vera lana, abbiamo la lana bianca ma non è davvero così importante E qua c'è un blocco di clay con dietro una cesta No, civil fish no Ok C'è un libo con sharpness 2 Ok, la prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo C'è anche tanta ledera Però ho già l'armatura e c'è del pane Ok Torno un attimo alla base Perché voglio mettere a posto un po' di queste cose Che ho Mi pulisco un po' l'inventario prima di partire Perfetto Mi sono suotato l'inventario per bene Ho lasciato anche lì delle cose nel caso Ma qua c'è un C'è una trappola per caso? Non so, cazzo, ogni volta spona qualcuno Ah no, c'è uno sponerla sopra Ok, direi che possiamo andare a romperlo Molto importante perché Siamo vicino allo sponer Se poi, vedi caso che muoio Non voglio avere sponer sopra la testa No, no, no Oddio, TNT Aia C'era la trappola Se rompi il tuo sponer Sponi la TNT Vacchi stronzi È davvero Ok, c'è un altro sponer qua vicino Ok, uccidiamo prima la gente Aia Troppa gente Troppa gente Troppa gente C'è tanto vetro in questo dungeon Ok, calma un po' Calma un po' ti dico Calma un po' Ok Troppa gente Ma non ho distrutto lo sponer Le unbreaking 1 E projectile protection 2 Eh ma questi hanno feather falling Li tengo Ma non li uso Almeno non per ora Poi delle torce Che prendo sempre molto volentieri Un enderper del cibo Cobblestone pane Perfetto Buono Buono Allora analizziamo un po' la situation Là c'è una porticella C'è uno sponer là sopra Là c'è della lava C'è un enderman C'è una cesta anche qua nel mezzo Vediamo Poi lo che ci sia qualche sponer Però C'è un creeper Buongiorno signor creeper Esposo il creeper Ok Stiamo un attimo qui indietro Projectile protection Sai che forse con tutti questi Creeper Scheletri Un po' di projectile protection Mi può servire Mettiamo Ah no Questa è d'oro È più buona Ok Teniamoci quella d'oro Possiamo una torcina Ah ah Creeper Merda Ok Altre porte Con un po' di calma Ok Calma Sangue freddo Riusciamo a fare tutto Quanti cazzo di creeper Che ci sono Calma un po' Calma un po' Zì E allora Il legno lo prendo Cosa c'è qui? Cos'è un boss? No C'è uno sponer di tizi Con le zucche Ora Lo so che avrei potuto Non uccidere Cioè non spaccare Quello sponer Perché Mi spawnava zucche Però sinceramente Le zucche non è che siano Chissà quale fonte di cibo Quindi Lasciamole pure là Oh fire protection Interessante Perché fire protection Devo buttarmi la lava Spero tanto di no Spero proprio di no Ah Qua ci sono dei C'è uno sponer Ho visto le fiamole Oh Calma un po' Morite un attimo Grazie mille signori scheletri Aia Grazie Ok Rompi tutto Perfetto Vieni qua Vieni qua Lo so che vuoi morire Magari non è vero però Io li capisco Gli scheletri Siamo molto amici Perfetto Un'altra cosa Utile è collegare Tutti questi archi Così mi faccio Un unico arco Però come si deve Ah ecco qua Anche se non ho Enchantment Perfetto Questa porta Non è che serviva molto Però ho notato Che qui C'è uno spawner Sulla destra E lo voglio rompere Eccolo qui Spero che non mi copisca nessuno Perfetto Perché ho sentito uno zombie C'è anche un creeper Qua c'è un po' Di gente Aia Gente cattiva Ok sta montando dal buco Però eh Buongiorno signor zombie Sono pericolosamente vicino A una quantità di spawner Eccessiva Quindi che dite Se iniziamo a rompere Un po' di questi spawner Ho finito la spada Non ci credo Ho finito la spada Non ci credo Perché non ho contato Dove è finito la spada Perché è una spada d'oro Che fa schifo Madonna perché sono scemo Ok spesso Ho il tulipano Ho Perché ho il tulipano Ma questa è la lana cazzo È la lana Ok 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 Figo Dovrebbe essere la lana questa Noo i severfish No che ho il tulipano No i severfish col tulipano Oh madonna i severfish col tulipano Brutta roba Brutta roba Il severfish col tulipano Brutta roba Brutta roba Mi trovo un attimo in difficoltà Mi trovo un attimo in difficoltà Muori stupido clipper Ok usiamo Usiamo l'arco Maledetti i silverfish Li odio Maledetti maledetti Vabbè C'è gente qui C'è gente Troppa gente Troppa gente Troppa gente Merda 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 Vai Sali 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 Sbattoli Scala Sbattoli Scala Sbattoli Scala Sbattoli Chiudi 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 Ok Mangia Dovei essere al sicuro A meno che non possano entrare da lì Ma spero di no Ho i miei dubbi Ok da qui si può Ah da qua si poteva entrare direttamente da quella casetta Lana arancione Ok Ora calma un po' E cerchiamo di capire come poter uscire da qui Senza rompere nessuno di questi blocchi che probabilmente sono tutti dei silver cosi Non è vero Non è vero Solo quello che ho rotto Ah no Ok questi qua si Solo questi due Mamma mia Dovevo spaccare direttamente il vetro Era molto più intelligente come idea Ok quindi ragazzi Aspettare posso craftarmi Una spada Posso Posso E lo faccio Perfetto Ok mi sa che è la scelta migliore Ora come ora Perché andare avanti con un tulipano Non è che sia molto intelligente Permettete di dirlo Ok No E ragazzi dove cazzo è uscito Eh no Avelenarmi no però Dai già sono un attimo in difficoltà del primo dungeon Non puoi farmi ste cose Cattivo Ok Buongiorno Ah no si esce da lì qua Pieno di superfish Pieno di scheletri Pieno di scheletri Oh la madonna C'hanno un knockback della madonna No 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 Chi cazzo vi conosce a voi Volevo vedere cosa c'era là dentro Però Uh madonna scherzavo 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 C'è una cesta nascosta Potions Regeneration Instant health Oh Non è mica tanto male Speed Strength Prendi pin Ok Non vi preoccupate Ora torniamo Io solo ho posato un attimo la lana Oh Ok Dov'è la mia enderchest Qua Boom Seconda Lana Ok Mol bene Ok Ora che ho posato la bellissima simpaticissima lana arancione Non ho paura Ad andare e cercare di capire cosa c'è là dentro Spero qualcosa di bello Perché c'erano tanti mob C'erano tanti scheletri Se non me ci potrebbe essere una bella cesta utile Quindi saliamo su per le scalette Prepariamoci a rompere sti cazzo di spawner Ok no state spawnando troppo in fretta però eh Troppo in fretta troppo in fretta Avete anche l'armatura d'oro L'armatura d'oro lo so che fa abbastanza cagare ma comunque l'armatura d'oro è la grazia per una data Quanto cazzo spawnate in fretta Mori muori 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 veloce 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 Oh c'è Ok progettile protection 2 e un break in 1 Me la metto anche se probabilmente finirà tra un secondo Ok vediamo cosa c'è qua invece Un'altra porta Ok c'era lo spawner di prima Con una spada si Looting e sharpness Molto meglio di niente Arro, frecce, smeraldi, carbone Perfetto c'è anche un anvil ma l'anvil ce l'ho già Perfetto dovrebbe essere tutto Non ci dovrebbero essere altre ceste Se non che qua sopra si sale e c'è un'altra cesta Con un piccone con i fishers i3 E' di legno ma lo prendo senza indugiare E qua c'è uno spawner di scheletri Che comunque rompo perché è esperienza Ok Muoi bene chicos Spera, 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 muori 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 Anche le ossa le prendo Ok, ok Anche se devo dirlo questo primo dungeon è stato Molto generoso Perché ho tanto cibo Ho tante armi Ma abbastanza sceme ma sono comunque armi E non male Perfetto quindi una cosa che potrei fare ora E andare ad esempio nel magazzino E utilizzare alcuni di questi libri che ho preso Guarda sharpness 2, sharpness 1 Con questa spada Vi spiego Allora Andiamo dove l'anvil Dove, 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 eccola qua l'anvil Ho 23 livelli Questa spada ho sharpness 1 Quindi se io lo combino con questo libro di sharpness 1 Arriva sharpness 2 Boom Preso Se questo libro con sharpness 2 Lo collego con l'altra Con l'altro libro Sharpness 2 Boom Sharpness 3 E ho una spada con 875 di attacco Che è più di una spada di diamante Quindi Wow Se solo avessi anche un bel libro con Unbreaking Sarebbe ancora meglio Ma purtroppo non è il caso E un po' mi dispiace in effetti Ehm Fatto so che mi ha preso anche questo bel piccone Piccone con efficiency 3 E unbreaking 1 Questo finisce subito Però un efficiency in effetti Non è che dia tanto Troppo fastidio Perfetto Io ho come l'impressione che il monumento Lo troveremo probabilmente tra la Prima e la seconda intersezione Quindi a cavallo tra le intersezioni E nello scorso episodio Nei commenti Ho letto alcuni che chiedevano Cos'è un'intersezione E ve lo voglio spiegare molto velocemente Rapidamente Un'intersezione è questa Un'intersezione è proprio un incrocio In cui ci sono 4 dungeon In questo caso ci sono di teletrasporti Per andare al dungeon Quindi Abbastanza easy Se il primo dungeon era quello arancione Il secondo è quello magenta Voglio andare a dare un'occhiata E sembra relativamente Perché c'è della TNT E perché c'è una cesta qua sopra Una cesta trappola addirittura Pezzo di merda Hai capito Qua c'è della TNT? Eh? Bastardo Infame Cosa c'è qua dentro? Possione della Fire Resistance Splash Potion of Fire Resistance Un libro con free money Che posso mettere sull'arco? Buono Tante frecce Ok Però raga Io sono curioso Di sapere cosa c'è qua sopra A parte il fatto che bisogna Bisogna far parkour Per poi morire malamente Tra l'altro Allora finché non ci sono Scheletri Ecco ho parlato Perché c'è della lana? C'è una C'è un vetro giallo Ok raga Troppa gente Troppa gente Calma un po' Sai cosa posso fare? Questa è una missione Per Surreal E il flame No sono serio Non è che voglio fare l'hater O cazzate del genere Voglio proprio usare il flame Perché vedete il modo In cui è messo il tutto È fatto apposta Per farmi sfruttare Questo libro flame Che mi ha appena dato È geniale come cosa Boom Ora ho un arco con flame Immaginate come lo userò Esatto Farò esplodere Le cose Proprio così Guarda lì C'è tanta gente Cazzo mene Boom Incendio la TNT Guarda come esplode Boom Addio allo spawner Addio ai mob E addio Al rischio di morire Stupidamente Ce la faccio? Ce la faccio Perfetto Ce ne sono tanti Anche lì Anche lì Ad esempio Cerco di distruggerli tutti Perfetto C'è dato una possibilità Di fare le cose come si deve Senza Rasciare E morire in continuazione Aspetta C'è una cesta vicino A vero Spero non esploda Cazzo così Che esplode Eh cazzo Non esplosa Perfetto Ok Stavo esplodendo tutto A meno che qua sopra Non ci sia uno spawner Non c'è uno spawner Perfetto Allora Stiamo comunque vicino Alle fence Così abito di cadere Ok Esplode anche quella Sto guardando C'è qualcosa Che mi manca Sento uno zombie Ma non è il mio problema Perché Ucciderò Te Così Merda 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 Ok stiamo qua Stiamo qua Buongiorno amico mio Cadi giù Mi stanno sparando da più parti Brutta roba Cadi un po' giù Che quest'arco non è infinito Ok C'è qualcosa nel fondo Riesco a prenderla qua Minchia troppo forte L'ho preso da qua Ok qua si scende Però prima di scendere Voglio andare a vedere Un attimino La situation Tembo Un attimo Qua c'è uno spawner di zombie Ok potrei usare l'arco Ah no sto usando il piccone di legno Ok scherzavo Sto dicendo potrei usare l'arco di legno Anche se fa cagare Invece no È molto molto buono Ok Come stiamo vivendo la situation qui La stiamo vivendo abbastanza bene Se non che È pieno di gente Oh cazzo Ok calma un po' Perché dietro c'è sempre La calca dei mob Madonna Io davvero bo Via Via Vai via Ok Devo anche vedere cosa c'è in quella cesta Magari c'è una super arma potentissima Che fa comodo Ok Oh Un piccone Come Oessi un piccone Perché sono scemo Là c'è un'altra cesta Aspetta Riesco a chiuderlo Mi sa di no Brutta roba Brutta roba Brutta roba Vabbè Ho capito Facciamo un giro Vediamo cosa c'è qua Ma quello sta scendendo su per la lava Ma non puoi Eh vabbè Chi sono io per dire cosa può O non può fare uno scheletro Eh Uh blocchi Ok Prendo la cobblestone per ora C'è anche tanto legno Teniamo Teniamo la mente quello Teniamo la mente Può risultare utile in futuro Ok Continuo a salire I zombie La cosa mi dà fastidio Quindi scendo E vado a distruggere Questi spawner Perché mi danno fastidio O almeno ci provo Almeno ci provo Prima di morire Fai impiazzare le torce Che altrimenti impazzisco C'è qualche scheletro No Ok Finché non ci sono scheletri Siamo tutti contenti Vero Più o meno Ok Tu cali giù Te li tocca di giù E allora Eh Non fare il cattivo Oppure che ci sia qualche spawner Qua sotto Ok Scheletri Scheletro 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 Mettiamoci quindi Nell'angolino Nell'angolino con le feste Non mi puoi fare male Eh stronzo Ok C'era un altro lì C'era un altro lì Dovrebbero essere finiti gli spawner Quindi almeno questa cesta Dovrebbe essere facile da recuperare Ok Vediamo Problema maggiore Sono le torce Mi sento uno zombie Dov'è? Dove sei? Ah ma ci sono gli spawner Sotto le scale Pazzi di merda Poi c'è qua Protection Blast protection Tanta roba Tanta roba Relativamente tanta roba Però la prendo lo stesso Eh però c'era Scassato Bullerica Abbasisite Ok Non pio questo Cerchiamo di salire Sento scheletri Sento roba È pericoloso qua dentro? Mi sa di sì Ok la cosa positiva Non ci sono Scherzo C'è di tutto qua dentro Pericolo 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 tantissimo Pericolo 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 Quanti cazzo di creeper ci sono Se esplode uno di quei creeper Siamo fottuti Però se Continua a colpire Magari mi droppa un disco Ok calma un po' Usiamo la mia Spada che ho craftato super potente Mori un po' Mori un po' Ragni Aspetta aspetta Prima cosa da fare Evitare Che entrino Che entrino mob strani Posso andare lì? Posso andarci lì Dovrebbe essere chiuso È chiuso Ok cosa c'è qua Un piccone Buono Lo prendo Cibo Chi è che mi ha sparato? Madonna Ha fatto in un colpo Stai un po' Fermo te Ok Pericolo qui raga Pericolo Mi sa che la lana è qui da qualche parte Madonna quanto è lungo sto episodio Lander però la prendo Posso prendere l'altro? Unbreaking 1 protection Dragno di merla È pure te però C'è schiassato E ti metti nel mezzo Mori un po' Sta quasi finendo l'arco tra l'altro Mori un po' Ok Porca troia Brutta roba Brutta roba raga Brutta 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 Bruttissima roba questa No 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 Via la lava Via la lava Qua 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 Odiamo la lava noi Madonna no la lava no Rompi qua C'è uno spawner C'è che c'è uno spawner Pezzo di merda A te gli spawner Altri spawner Altri spawner Non spawner Non spawner Meglio così Figati di me Meglio così Meglio così Cazzo c'è uno spawner Quando l'ho visto Ok 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 Cosa c'è nella cesta Roba buona Una spadina Relativamente buona Prendiamola Cosa poso? Poso la pelle Tanto c'è uno tanto a casa Protection 2 Lasciamolo qua per ora C'è qualcosa qua sotto? No Ok si sale Calma un po' Che cosa c'è qua sopra? C'è il devasto Una libreria Ma come ma siamo solo al secondo dungeon? Ok Ok C'è uno spawner qui Lo voglio distruggere Lo distruggerò Ok Con o senza il tuo aiuto Via del cazzo E morite tutti Tantissimo Perfetto Questa spada Cercherò di non distruggerla però Sai com'è? Può essere utile Ripararla con un po' di cobblestone Visto che ne ho tanta di cobblestone Ok Troppi mob qui raga Tantissimi tantissimi mob Adesso sto finendo la spada Sto finendo la cazzo di spada Dove cazzo sto andando Madonna Non si capisce un cazzo qua Oh Tutto vuoto C'è un No non c'è un buco Ci sta Projectile protection 3 TNT Usiamo la TNT C'è un accendino? Beh ho l'arco Prendiamo la TNT Vai Cosa posso lasciare qua? Queste frecce Ad esempio una cosa di questo tipo Potrebbe fare Cazzo mene zio Perfetto Una patata Perché scende la gente dal soffitto? Porca troia C'è un altro piano Nessuno me l'ha detto La madonna No no Chiudiamoci un attimo Ok Allora cerchiamo di fare una scala Che sale Eh Sarà che scende non si è molto utile ora Porca troia Oddio Oddio sono chiuso c'è un face Sono chiuso Creeper No Porca troia scendi scendi Che senso acquittare Non ha senso acquittare Ok Ok Brutta storia raga Bruttissima storia Bruttissima storia Bruttissima 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 Porca troia Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Previsione Mi raccomando lasciate mi piace Per l'episodio extra lungo Ci vediamo domani Con il continuo Sperando di riuscire a riprendere Tutta la roba Perché ero pieno di armatura E niente Ciao Turturutututte